lettera scritta a 12 anni a re canati alla signora marchesa roberti e a sui figli lettera nella quale il conto giacomo leopardi finge di essere la befania carissima signora ho pensato di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e vi mando certe bagatelle per cotesti figliuoli ma ditegli che se sentirò cattive relazioni di loro quest'altro anno li porterò un po di merda trattate bene cotesti signori con pasticci crostate cialde cialdoni e non siate stitica e non vi fate pregare estate allegri ghiotti indiscreti somari e scroccone dal primo fino all'ultimo firmato l'abbè fatta